Ho sempre lavorato nel campo della grafica fino a 5 anni fa e adesso faccio tutt'altro lavoro, sono un impiegato però conoscendo bene i vari programmi grafici mi diverto a realizzare queste immagini ritoccate diciamo prevalentemente per far sorridere agli altri per mettere un po' di buon umore diciamo prevalentemente io mi diverto a modificare le vie di Pesaro sono un ragazzo che gli piace passeggiare per le vie anche quelle meno frequentate quando mi viene in mente qualcosa procedo subito a modificare uno scatto che faccio anche col cellulare poi lo pubblico sui social prevalentemente su Facebook e anche sulla pagina sia di Pesaro se quindi vengono visualizzati prevalentemente da tutti i pesaresi continuo a divertirmi in questa maniera alcune sono state anche pubblicate dal sindaco per esempio quella che ho fatto con Mary Poppins sotto gli ombrelli che hanno inserito per tutta la via Micuria sono cose che passeggiando per il centro mi vengono in mente e conoscendo apposta i programmi grafici mi metto subito l'opera oltre a fare le vie di Pesaro e anche personaggi conosciuti di Pesaro come il Guappo, il Mitico Baffo ho iniziato a fare anche personaggi come Jerry Scotti, Rudy Zerbi proprio ultimamente è piaciuto un fotomontaggio che ha fatto Rudy Zerbi e l'ha pubblicata nella sua pagina ufficiale insieme a Radio DJ quindi anche nella pagina di Radio DJ e nella pagina di Acqua Fan sono rimasto diciamo sorpreso di questo e sono però super felice perché vuol dire che fanno sorridere perché comunque sia sono fotomontaggi ironici quindi sono super felice per di questo continuerò finché avrò diciamo la fantasia di crearli perché alla fine è tutto un discorso di fantasia continuerò a farli sperando sempre di regalare un sorriso ecco